Allora, siamo qui con Gadaleta, sei stato votato dai tifosi, è un VP della seconda giornata, quindi della partita contro il Gladiator. Innanzitutto sei un under e quindi sembra già difficile risultare così bravo e così preparato, soprattutto se entri quasi da subentrato. Sì, io quando entro cerco di dare il massimo e aiutare la squadra. Sì, contro il Gladiator ci sono riuscito, ma penso che sia stato grazie ai miei compagni che mi aiutano ogni giorno durante gli allenamenti a migliorare e non farmi abbassare il livello della concentrazione. Allora, prossima gara, venite da due trasferte praticamente perfette, aiutate dalla fortuna, ma comunque due risultati su due. Che cosa vi aspettate per la prossima gara e come la state preparando? No, noi come sempre ci stiamo allenando alla grande e la stiamo preparando al meglio. Domenica ovviamente cercheremo di vincere e di dare il massimo. Verrà l'Ardea che attualmente ha zero punti con una penalizzazione, quindi proverà sempre a fare punto anche qui al San Francesco e a trovare il massimo. Voi state preparando una partita più di reparto o un qualcosa di specifico? No, noi stiamo preparando la partita, cercando di avere il pallino del gioco e di giocare e di fare la partita. Poi molto dipende anche dagli avversari.